buongiorno agli ascoltatori occhio al caffè la nostra rassegna politicamente scorrettissima di libero allora per una giornata e per un lunedì che si apre con una serie di appuntamenti significativi intanto ieri e proseguirà anche oggi c'è stata c'è ci sarà la camera ardente al senato per giorgio napolitano diciamo considerando tutta la sfilata a favore di telecamera di molti di coloro che sono andati verrebbe da dire più telecamera ardente che camera ardente comunque sta di fatto che oggi in particolare il messaggero ci fa già un'anticipazione di come si svolgerà la famosa cerimonia di domani a montecitorio perché alla fine chi è che prende la parola perché comprendete bene che è il rischio dell'equivalente dell'omelia del cardinal del pini qui siamo in ambito laico e vi ricordate no la scena di del pini che inchioda berlusconi alle sue responsabilità nell'orazione funebre pagina non bella e oggi il rischio non è che qualcuno inchiodi tra virgolette napoletana napolitana napolitana le sue responsabilità ma che la giornata si tramuti in una specie di comizio e chi sono quelli che intervengono e allora c'è anna finocchiaro poi per diciamo così dare l'idea di un quadro più complesso c'è gianni letta poi arrivano preparatevi giuliano amato paolo gentiloni e poi c'è il biblista manca mai il cardinale ravasi ma la doppietta amato gentiloni sarà quella dalla quale realisticamente ci verranno più soddisfazioni si fa per dire va bene ieri è andato al senato anche il papa a fare visita tutti colpiti dal fatto che il papa sia rimasto immobile non abbia fatto neanche il segno della benedizione c'è poi secondo tema la questione immigrazione con un rapporto difficile tra italia e germania e ieri una rispostaccia da berlino alle contestazioni che a me sembravano sennate che guido crosetto faceva alla germania insomma che un paese paghi delle ong per per carità salvare le persone poi poi portatele lì portatele sulle coste italiane non è cosa che dà particolare soddisfazione invece è venuta una qualche apertura da macrono sulla questione africa terzo tema sui giornali non lo trovate è maturato questa notte ma era una notizia largamente attesa la morte di matteo messina denaro e naturalmente lo stato ha fatto benissimo a curare e custodire questo criminale per alcuni mesi ma naturalmente ora il mondo è un posto più sicuro senza senza questo signore che tanto dolore ha procurato l'ultimo tema che però quello a cui ad esempio libero si dedica di più è la questione oggi è l'anniversario della vittoria elettorale dell'anno scorso del centrodestra tanti si sono esercitati in un bilancio di questo primo anno a onor del vero il bilancio andrebbe fatto a fine ottobre del primo anno di governo il governo fu formato mi pare il 22 ottobre libero si dedica a una specie di controbilancio dell'opposizione l'opposizione politica eppure l'opposizione mediatica e qui prendiamoci un sorriso perché ieri sulla stampa è sceso in campo massimo gennini diciamo pronto a fare il capo partigiano ma la cosa più clamorosa avveniva su repubblica con uno specialone di non mi ricordo più quante pagine l'anno nero dell'italia con il direttore molinari e altre 18 firme uno diceva 18 firme più uno mobilitate per inchiodare hitler le sue responsabilità no qui i bersagli erano meloni lollo brigida eppure andrea giambruno perché c'era un pezzo di natalia aspesi che si chiedeva ma come mai la meloni non ha sposato questo bel ragazzo e che cosa c'è dietro siamo arrivati all'irruzione della aspesi nella camera da letto di casa meloni giambruno ma poi c'era di tutto c'era michele serra che dice non chiamiamo la destra perché molto di peggio bel politi lombrosiano sul corpo della meloni bolini che ha fatto la maggioretta per vent'anni del circo giustizialista che dice no ma qui c'è il pampenalismo non mancava non mancava proprio a cappellini naturalmente già già sulle montagne a combattere diciamo ecco il fascismo non da tregua peraltro vanno segnalate un paio di altre cose sui social maurizio crosetti altra firma di repubblica aveva detto che siamo a un passo ormai dalle leggi razziali e che i nostri i suoi nonni non avevano finito il lavoro con i fascisti insomma dolendosi del fatto che il trattamento piazzale loreto non sia stato più generalizzato questo il contributo alla pacificazione di crosetti dopodiché poi sorge un dubbio ma insomma se siamo in una situazione così pericolosa l'anno primo dell'era meloni perché sti signori stanno tutti dislocati tra roma centro roma parioli torino crocetta milano zona 1 al massimo si spostano a capalbio e a cortina d'ampezzo dovrebbero organizzare brigata partigiana insomma però vediamo che l'alitizzetto fa fa la staffetta tra gli studi discovery e quelli mediaset quindi insomma forse l'emergenza non è così non è così stringente chissà va bene non divadiamo queste le cose da vedere andiamo a verificare come precipitano come si dice sulle prime pagine dei quotidiani libero sopra la testata quindi in un fascione sopra libero macron apre all'italia più fondi all'africa ma il titolo principale è rosicano ancora e c'è uno sguardo vedremo a tre teste sul crollo nervoso dei quotidiani di opposizione sul quadro politico della sinistra e poi su quelli che dicono che napolitano non si può criticare mentre l'editoriale di secchi è dedicato alla questione macron ci verremo il giornale soldi ai migranti non ai poliziotti tra vitto alloggio e diaria spendiamo 3,5 miliardi intanto gli uomini che li aiutano aspettano il rinnovo del contratto da due anni il tempo invece è molto celebrativo su quello che chiama l'anno di governo un anno dalla vittoria diciamo 11 mesi di governo riparte l'italia vincente così il tempo la verità sull'immigrazione perché si può parlare di invasione ciò che sta producendo la migrazione di massa gli italiani lo sanno bene non si può liquidare tutto con l'errata percezione viene sentito il presidente istat blangiardo che dice crollo delle nascite nuovo record riprende la verità e chi esalta la vita senza figli è proprio chi vuole più stranieri con tassi di fertilità alti corriere della sera migranti duello roma berlino seconda riga del titolo forza italia apre al condono condono che indigna è il fatto quotidiano allora che mette una foto di salvini che alza un braccio con un dito pericolosamente puntato e naturalmente con perfidia il fatto mette una foto di salvini in cui la scella è pezzata salvini un condono al giorno cartelle sanate fino a 30 mila euro quindi il fatto chiama alla pugna contro il rischio del condono il giorno edilizia il giorno quotidiano nazionale sono le tre aperture di giorno resto del carlino e nazione edilizia le mini irregolarità da sanare il messaggero introduce un elemento in più rispetto alla manovra il gioco dell'otto all'asta per finanziare la manovra anticipata la gara da oltre 800 milioni nadef blindato il taglio del cuneo paletti italiani alla sanatoria edilizia di salvini solo per le riqualificazioni colgo l'occasione per dirvi che ci sono interpretazioni molto diverse sulla presa di posizione italiani a proposito della proposta salvini sulla mini sanatoria chi presenta la dichiarazione italiani come un avallo chi la presenta come un freno sì ma solo solo per le cose piccole però qualcuno l'avete come un'adesione qualcun altro come una frenata andiamo poi ai quotidiani del gruppo gedi la stampa che tifa germania quindi immaginate un bandierone tedesco che avvolge giannini virgolettato salvare i migranti è un dovere dura replica della germania a crosetto così la stampa e poi repubblica stretta sui baby migranti beh uno pensa ai bambini no il tema è quello dei minori non accompagnati spesso si tratta di 17 anni alti due metri o magari anche di 23 anni che si sono autodichiarati 17 anni però repubblica ci parla di una stretta sui baby migranti dopo l'ammissione della premier sul flop dei piani antisbarchi norme più severe sui presunti minori non accompagnati soldi alle ong scontro con berlino macron apre a meloni risposta europea non possiamo lasciare soli gli italiani allora raffica di segnalazioni da libero editoriale di secchi su macron che in qualche misura apre alla linea di meloni sull'africa e secchi ricorda tutte le circostanze nazionali e di vertici internazionali in cui meloni aveva effettivamente posto la priorità africana come fonte di problemi ma anche come necessità di intervento e poi questo titolo principale rosicano ancora retto o meglio che regge tre diramazioni chi li parla sul crollo nervoso dei quotidiani d'opposizione una specie di rassegna divertita e divertente speriamo della stampa di ieri e dello specialone di ieri di repubblica pietro senaldi che fa un bilancio politico dell'opposizione ma un anno dopo pd e 5 stelle si travasano i voti ma non ne prendono di più il terzo polo non c'è più landini a mire egemoniche è stato un buon anno per l'opposizione non pare e marco patricelli su napolitano o meglio su quelli che stanno con l'aspersorio in mano e glorificano santificano e soprattutto non consentono non prevedono alcuna possibilità di critica napolitano patricelli ricordo opportunamente anche le circostanze in cui avvenne la famosa correzione di rotta sull'ungheria e 50 anni dopo e dovendo napolitano andare a budapest dove non lo accoglievano diciamo proprio con entusiasmo visti i fatti del 56 va bene e da segnalare claudio osmetti la giornata di santegidio ci dà sempre soddisfazione la citeremo due volte oggi la prima citazione per il cardinale zuppi santegidio oggi capo dei vescovi italiani che ieri è andato alla festa di rifondazione comunista ed è stato osannato si sono trovati bene poi due ritratti assai brillanti luca beatrice si occupa di zoro diego bianchi la sette giovanni sallusti anche lui irresistibile su la sulla sulla professoressa scrittrice bompiani perché appagliati in una pagina perché tutti e due hanno fatto dichiarazioni un po scioccanti sull'immigrazione zoro dicendo che vorrebbe uno stato orgoglioso che dicesse il presidente del consiglio quest'anno ne abbiamo accolti guarda che bravi 150 mila la bompiani perché poi gli schiafisti sono poveri cristi poveracci eccetera dell'orco su macron e poi una pagina di commenti oggi ricca di cose c'è francesco giubilei che scrive una lettera che fa seguito all'intervento di ieri di antonio socci il tema la cultura e la destra francesco carella commento assolutamente da non perdere perché recupera una figura dimenticata giuseppe marianini forse il primo a usare la parola partitocrazia il rischio che ci fosse una degenerazione del sistema dei partiti marianini era un costituzionalista coniò questa espressione negli anni 60 poi 10 15 anni dopo ne avrebbe fatto ampio uso e felice uso in politica ad esempio marco pannella e non solo e poi due commenti che pure vi segnalo sulla faccenda sulla faccenda lega corrado ocone per dire guarda appena salvini parla si va dritti alla mostrificazione ignorando anche aspetti che diciamo su cui anche gli avversari potrebbero magari essere più riflessivi giovanni lungoni sulla natura o su una natura possibile della lega l'ultima segnalazione le ultime tre segnalazioni sono divertenti però vi fanno anche arrabbiare all'ugnazio stagno sul fatto che questi di ultima generazione gli ecosvalvolati hanno tirato fuori pure un manuale per le occupazioni delle strade come si fa va de me come tutorial te lo spiego io poi è una storia incredibile da piacenza l'ha raccontata l'ex assessore di centrodestra papa varenghi che racconta le imprese in questo caso di una giunta di sinistra che succede doveva esserci una manifestazione per ciclisti disabili e atleti disabili erano arrivati da tante parti poi però invece blocco della viabilità casino tutto annullato e la giunta che faceva stava un festival culturale a cui partecipavano credo sabiano laguzzanti tutta una serie di altre l'ultima storia è ad erezzo la battaglia del grano che succede no perché un forno lo racconta bene enrico paoli un forno produce pane lo vende e lo mette in buste dove fuori è scritta in piccolo quella che viene chiamata la preghiera del pane e sciaguratamente questa preghiera del pane venne una volta evocata anche da mussolini non sciupare il pane apri di cielo se è scatenata lampi per mobilitazione antifascista sul sul pane il forno è stato preso da salto questo mi consente momento giorgio mastrota è momento della televendita di ricordarvi che oggi avete due opportunità la prima è naturalmente quella di andare in edicola e prendere libero o meglio ancora di abbonarvi la seconda è quella non ancora di andare in libreria quello potete farlo dal 3 ottobre ma di cliccare su amazon e di prenotare questo libro dove sta si nasconde abilmente e basta con sto fascismo vedi che la cronaca anche da arezzo anche da arezzo ci aiuta allora queste le segnalazioni di oggi su libero come procediamo ricominciamo il giro direi napolitano immigrazione bilancio di governo e sezione finale su casa perché questo va sempre tenuto d'occhio allora napolitano la cosa della camera ardente è raccontata un po da tutti per comodità potete prendere il corriere della sera a pagina 6 papa francesco il suo omaggio che però ha incuriosito molti perché il papa è rimasto in piedrito non ha fatto gesti di benedizione e non manca mai in questi casi un'intervista a casini quando serve qualcuno che dica il papa ha ragione eccetera viene sentito casini e alla bisogna si presta adriano logroscino così il papa ha voluto onorare chi ha consacrato la sua vita alla gestione della cosa pubblica il suo quello di bergoglio è stato un atto d'amore verso la repubblica italiana quindi casini nuovo portavoce della della santa seo portavoce aggiunto e viene sentito nella pagina accanto da gianguido vecchi il cardinale ravasi che preannuncia che sarà oratore domani al rito laico e dice parlavamo con lui di dante e di beccaria e ma a proposito ma come si svolgerà questa cosa questa cosa di domani e la racconta il messaggero mario aiello che fa il colpo perché su altri giornali non l'abbiamo trovata e ci sono le cinque foto di coloro che interferranno anna finocchiaro gianni letta giuliano amato paolo gentiloni e gianfranco ravasi speriamo bene vedremo come andrà quanto si parlerà di napolitano quanto si parlerà di vita e morte quanto si parlerà in modo più o meno subliminale del governo dell'europa vedremo giuliano ferrara coglie l'occasione per attaccare i quotidiani di destra e per dire che non hanno capito che invece napolitano era veramente comunista e liberale diceva è uno simono no no e giuliano ferrara ci spiega che andava tutto bene e eccolo qua dove lo troviamo l'operazione mario monti non fu un colpo di stato contro berlusconi come era avvenuto anni prima con le trame del cattolico integralista oscar scalfaro vero autore dell'unico ribaltone fu uno sbocco una via d'uscita che il capo del governo della coalizione sconfitta accettò in nome di un soprassalto buono e sincero anche per lui di realismo e senso delle istituzioni appunto berlusconi lo sapeva benissimo e ne parlava con i suoi pochissimi veri amici mentre concedeva un tanto di mite anticipazione del trumpismo all'idea costitutiva della sua mitica invincibilità qui però come sempre ferrara parla di se stesso che faceva il rap dalla redazione del foglio dicendo tienimi da conto monti ma aspetta che arriva il resto tra le virtù di napolitano c'è quella di lasciare a parte gli aspetti umani di una lunga vecchiaia di una testimonianza limpide di amore non rinnegato per la politica un ricordo freddo e razionale di ciascuno dei suoi felicemente contraddittori i passaggi di campo ma non di stile non di cultura è stata una vicenda personale politica in cui tutto si spiega compresa la vena pedagogica di una personalità che ha passato la vita a imparare e assimilare il nuovo quadro che l'evoluzione storica gli metteva davanti il realismo e le istituzioni non sono macchine desideranti non hanno il fascino dell'irrazionale del nullismo ma la destra di governo dovrebbe aspirare a desiderare di meno e a praticare di più le virtù indubitabili dello statista scomparso così Ferrara che sembra però non vogliamo psicanalizzare nessuno sembra però giustificare non tanto napolitano ma cui traiettoria è complessa interessante ricca chi siamo noi per ma sembra Ferrara giustificare una specie di a esser buoni realismo pragmatismo a essere meno buoni furbizia e camaleontismo comunista per cui un giorno si è rivoluzionari un altro giorno si è realisti e come dire in nome di un risultato che è sempre quello dell'egemonia Ferrara dalla trincea di Monte Carlo arriva anche Flavia Perina a dire che pure lei diciamo brigata Ferrara a dire che non ci fu golpe nel 2011 e la destra lo sa è tempo di rileggere la storia ora però che lo dica una che è stata parte in causa era al fianco di Gianfranco Fini era una deputata di alleanza nazionale quando nel 10 Fini tentò lo strappo all'epoca eravamo noi e la sinistra a lamentarci della tempistica scelta dal presidente e qui siamo veramente cioè adesso la Perina ci vuole raccontare che il timing e le scelte di Napolitano erano ostili a Fini e dai quando chiunque ha capito che Fini veniva spinto da presidente della camera da Napolitano a rompi e quello finirà nel burrone giudiziario te la ricordi il fuorionda di Fini col procuratore di Pescara mi pare si chiamasse Trifuoggi in cui ridacchiavano sulle dichiarazioni di Spatuzza su Berlusconi che si credeva immortale eccetera però questo Flavia Perina non ve lo ricorderà forse un'altra volta diciamo non oggi e Sant'Egidio sì c'è anche Sant'Egidio in questo caso attraverso Andrea Riccardi che non manca mai che viene sentito da Repubblica sul Napolitano era un laico che rispettava la chiesa Ratzinger lo stimava e si confidò con lui quindi qui ci abbiamo visto chi era quell'altro Casini portavoce di Bergoglio e invece Riccardi autoproclamato portavoce di due defunti cioè di Ratzinger e di Napolitano stesso immigrazione allora abbiamo visto tutto il lavoro che fa Libero il giornale insiste invece sulla discresia tra fondi spesi per l'accoglienza e invece contratto non rinnovato dei poliziotti ampia sezione anche sulla verità anche qui vi segnalo un po' di cose c'è Maurizio Belpietro che diciamo rimprovera a Andrea Orlando e anche a una serie di altri supporter mediatici della sinistra un'amnesia dice ma guarda ricordati quello che hai fatto tu sui CPR Francesco Borgonovo che rovescia diciamo sugli altri l'accusa di negazionismo dice guarda siete voi che state negando in questo caso un'emergenza noi suggeriremmo una moratoria della parola negazionismo però da questo punto di vista non ha torto Borgonovo dice guarda me lo dici tu sul clima e sui vaccini te lo dico io su quest'altro tema e poi due interviste interessanti perché c'è Fabio Dragoni che sente Anna Bono che racconta come spesso gli stati africani da cui avviene la più parte dei processi migratori non sono necessariamente i più poveri. La Bono insiste sul tasso di corruzione dell'elite africane mentre Federico Novella sente Marco Minniti che insiste su un punto a mio avviso condivisibile l'importante è che non diventi diciamo così il meglio in attesa del quale non si può fare un po' di bene e dice Minniti al prossimo consiglio europeo bisognerebbe portare un'intesa complessiva Europa Unione Africana come cornice entro la quale collocare i singoli accordi bilaterali. Volete la versione tutta diversa? E allora fa per voi la stampa che ti dice che sbarchi Meloni accerchiata pagina 7 e c'è tutta la parte poi sulla Germania la sensazione è che dalle parti della redazione della stampa facciano più il tifo per la Germania che per Crosetto e l'Italia salvare i migranti è un dovere dura replica della Germania a Crosetto non manca il commento di Linda Laura Sabbadini che descrive questa destra cinica che cerca voti la paura utilizzata per un pugno di voti. Ah noi credevamo che la paura fosse stata utilizzata ai tempi del covid da Conte e Sperazza però no, la Sabbadini ci dice che è solo Meloni. Va bene, a proposito del bilancio Meloni delle considerazioni su cui riflettere sono quelle del professor Campi sul messaggero che il cui editoriale è titolato così gli imprevisti della politica che richiedono cambi di rotta e Cambi evoca il fatto che andando al governo il registro del realismo si imponga. La idea imboccata dal governo, quella del pragmatismo e realismo economico è stata secondo molti un cammino obbligato più che una scelta volontaria ma non cambia la sostanza. Chi si aspettava un esecutivo avventurista attento al consenso immediato più che all'equilibrio dei conti pubblici si è dovuto ricredere. All'inizio si ironizzava sul draghismo di facciata della Meloni adottato solo per dersi all'estero una pervenza di affilabilità. In realtà su questo versante sembra intervenuto un cambiamento di mentalità profondo e convinto. E lo dice sull'economia, lo ribadisce sulla politica internazionale e esattamente lo stesso cambiamento intervenuto sui temi internazionali, ad esempio con l'opzione euro-occidentalista nella scelta tra Kiev e Mosca. Non era scontata, sembrava anch'essa una decisione opportunistica adottata contro voglia vista le pregresse simpatie putiniste circolanti nel centro-destra italiano. È invece diventata un'opzione strategica e non negoziabile intorno alla quale Giorgia Meloni ha operato una fitta e proficua tessitura diplomatica che l'ha molto rafforzata. Detto questo, quindi dopo una doppia difesa, Campi però fa anche una messa in guardia al governo. Detto questo non facciamola facile. Le contingenze avverse di questo primo anno, che hanno certamente frenato i piani riformistici del governo in materia quali fisco, giustizio e riforme istituzionali, si sono sommate anche con difficoltà tutte interne all'esecutivo, ad esempio la rincorsa a destra della Lega alla Meloni. Sinora si è mantenuta entro limiti accettabili, ma ci vuole poco a superarli, trasformando così una competizione fisiologica in uno scontro politico e personale dagli esiti potenzialmente pericolosi. Così come la questione, molto discussa, di una Meloni accusata di fidarsi solo di familiari e amici di antica data, dando così la stura, in tempi di antipolitica galoppante, ai peggiori retropensieri. In sé la questione si spiega facilmente, è una tendenza tipica di tutte le comunità militanti, fondate su una base ideologica forte e condivisa, quella a sovrapporre le relazioni personali e affettive con quelle politiche. Da un certo punto di vista è un segno di forza, ma potrebbe in effetti diventare un limite se la Meloni finisse per chiudersi troppo all'interno di una cerchia di fedelissimi, rischiando così l'isolamento. La realtà si governa avendone una percezione autentica e diretta, non mediata o peggio ed ulcorata e quindi vedi come Campi dice attenzione alla competition, fratelli d'Italia-Lega, che può diventare qualcosa di poco controllabile e attenzione a questo aspetto di eccessivo arroccamento. Sezione casa da due lati, questa storia della sanatoria sulle piccole irregolarità lanciata sabato da Salvini e che ieri ha di nuovo dominato la giornata politica con reazioni furiose da sinistra e delle dichiarazioni di Tagliani che sono interpretate attraverso lenti diverse da alcuni quotidiani. Paola Di Caro sente Tagliani sul Corriere della Sera, nessun condono sulle grandi irregolarità. Vediamo però l'interpretazione di altri quotidiani che non vedono la cosa come una adesione, quanto piuttosto come un paletto, un freno. Messaggero Francesco Becchis, Forza Italia, mette i paletti alla sanatoria di Salvini, solo riqualificazioni e sulla medesima linea, se ricordo bene, anche la stampa. Bufera sul condono edilizio, Tagliani boccia il piano di qui, siamo alla bocciatura. Noi avevamo capito che era sostanzialmente una adesione, sia pure un'adesione che sottolineava ciò che a onor del vero anche in una nota di un presidente di commissione leghista, Gusmeroli, si diceva sin dalla prima sera. Guarda che non si tratta di un intervento di Liberi Tutti, si tratta di una cosa per sanare alcuni aspetti minori. L'altro aspetto della questione casa, che era stata oggetto ieri di una pagina sul Libero, oggi è ben trattata sul giornale, e cioè il fatto che Salvini, a mio avviso meritoriamente, ha un'assemblea di confedilizia a Piacenza, dove si ricordava peraltro la figura di Corrado Sforza Fogliani, che è stato presidente di confedilizia prima dell'attuale presidente Giorgio Spaziani-Testa. Salvini è intervenuto e tra le altre cose ha detto la leggina sugli affitti brevi. Peggio, la Sant'Anchè voleva addirittura farne un decreto legge, quindi addirittura un intervento d'urgenza, non va bene alla Lega e mi avviso molto bene che Salvini abbia messo questo paletto. E se ne occupa il giornale, in termini di cronaca con Lodovica Bullian, che dice che a questo punto non è chiaro se nel Consiglio dei Ministri di oggi quel tema ci sarà, speriamo di no. In termini di commento, commento eccellente che parte in prima e gira all'interno di Nicola Porro, che parla sugli affitti brevi di una misura contro il ceto medio. Fa capire bene Porro che si tratta di una misura che è indifendibile nella teoria, ma è pure indifendibile nella pratica, perché colpisce i piccoli proprietari e alimenterà o alimenterebbe quel nero che in teoria il governo dice di volere limitare. Va bene, finisce qui la puntata di oggi di Occhio al Caffè, l'invito ve l'ho già fatto in corso d'opera, quindi comprare libero, meglio abbonarsi, se vi capita anche su Amazon prenotare un libro che sapete. Buonissima giornata e noi ci ritroviamo domani mattina, presto, è molto presto domani mattina a Dragelio. Buona giornata a tutti.